15 milioni di dote finanziaria per il futuro del sito di Ideal Standard, marchio e commesse al futuro acquirente, ancora continuità produttiva fino alla fine del prossimo mese di febbraio, cassa integrazione per 12 mesi, incentivi all'esodo. È stato definito un accordo storico non solo per il Veneto ma anche a livello nazionale, quello raggiunto al Mise per lo stabilimento di ceramiche di Tricchiana. Abbiamo raggiunto il migliore accordo, non solo possibile, ma proprio il migliore accordo. E quindi questo è un primo passaggio, noi vogliamo la continuità produttiva, vogliamo che quel marchio che è tanto importante per il territorio, per i lavoratori, che lo sentono proprio, questa è un'azienda che direi che i primi industriali sono i lavoratori. Ai lavoratori che storicamente hanno affiancato la squadra istituzionale e sindacale, accettando anche la riduzione dello stipendio, è stata indirizzata a riconoscenza, in primis dagli stessi vertici di Ideal Standard. Noi avevamo manifestato fin dall'inizio la volontà di cercare di rispettare al massimo le persone, cercare di avere un supporto per minimizzare al massimo l'impatto sociale delle nostre decisioni. E così, pur se faticosamente, è stato. Avevamo fatto una promessa ai lavoratori all'indomani dell'incontro al Ministero, in cui Ideal Standard ha detto che se ne andava, e con questo accordo noi poniamo le basi di costruzione per un futuro dello stabilimento, per il mantenimento dell'occupazione, per il mantenimento del valore industriale. Noi attendiamo con fiducia che ci possa essere un acquirente, un acquirente che magari ceramista, come viene definito, cioè che lavora nel settore sanitario, e per poter aprire con questi un dialogo, un confronto, per dare prospettiva futuro allo stabilimento, in particolar modo dei 450 dipendenti. Per domani, attesa la nomina dell'advisory incaricato da Ideal Standard per la ricerca del nuovo acquirente, si parte dunque, mentre la Regione è pronta a suggerire una norma che metta in chiaro una volta per tutte cosa può essere concesso o meno alle multinazionali, per evitare che il Paese Italia non sia più considerato terra di conquista.